Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa. Scusate, l'ora per l'Italia è molto tardi, per gli Stati Uniti dove mi trovo in New York certo non è una di quelle viste famolose, d'altronde sono un piano basso in questo albergo di Midtown, per fortuna che c'è il wifi che non è sempre garantito negli Stati Uniti, soprattutto negli alberghi. Insomma dicevo scusatemi per l'ora tarda ma qui sono le 7 di mattina in questo momento e quindi tutto sommato mi sono svegliato relativamente presto. Cosa c'è sui giornali italiani che ci interessa, domani magari parliamo anche di quelli inglesi. Ma sui giornali italiani c'è una cosa soltanto molto divertente, ce ne sono varie, ma quella che mi diverte di più è l'apertura mi sembra del Messaggero e del Corriere della Sera sul fatto che il PIL italiano sta rallentando nella sua crescita, cioè starebbe arrivando all'1,3% nel 2018 rispetto all'1,5% che ha fatto segnare l'1,7% e secondo il Centro Studi della Confindustria dovrebbe scendere all'1,1% il PIL nel 2019. Il PIL misura la ricchezza di un paese, è l'idea convenzionale, il termometro convenzionale per capire quanto siamo tosti. Insomma io ho un paio di considerazioni su questo le voglio fare, anche perché la pagina 2 e 3 del Corriere della Sera sono costruite con anche un articolo molto bello di Maurizio Ferrara, dicono sostanzialmente il PIL non cresce, queste sono le misure di ostacolo alle imprese che voleva fare il governo. Allora io però una cosa ve la dico, il PIL non cresce per tanti motivi e non iniziamo a sfottere neanche il Centro Studi della Confindustria che è quello che ci aveva detto che ci sarebbero arrivate le cavallette se non fosse stato approvato il referendum di Renzi. Però obiettivamente mi viene da dire non associamo questa crescita del PIL ridicola del 2018 alla nascita di un governo che in materia economica farà una cagata dietro l'altra se dovesse rispettare quello che c'è scritto nel governo. Almeno su questo cerchiamo di essere banalmente seri se facciamo un'analisi di quello che avviene. Il governo non ha potuto fare nulla sull'economia, ha fatto molto da un punto di vista di segnali politici sull'immigrazione, sulla sicurezza, ma anche forse qualche segnale lo ha dato lefties direbbero qua in America sui temi economici, ma non ha ancora operato nulla. Tant'è che ieri il Consiglio dei Ministri che doveva fare quelle norme inutili del decreto dignità, cioè un modo ottocentesco per fermare la rivoluzione digitale pensata in un palazzo di via Veneto, un'opera d'Annunziana direbbe oggi Ferrara, una coiata, non so come l'ha chiamata quando D'Annunzio disse una frase d'Annunziana, insomma questa cagata del decreto dignità non è stata fatta, quindi direi che non si può ancora attribuire a questo governo i benefici o i malefici dell'andamento del PIL, insomma diamogli un po' di tempo. Una cosa si può dire, l'ho scritta settimana scorsa, la trovate sul sito nicolaporro.it e su questo ci sono pochi dubbi che questo governo è stato una scusa, oppure è stato complice di un aumento fisso del normal new, l'ho scritto venerdì scorso nella mia zuppa, cioè i tassi di interesse sono aumentati, quindi per imprese e debito pubblico un costo della provvista sarà superiore, ma da questo a tradursi una riduzione del PIL come stiamo prevedendo oggi, in fondo un po' ce ne vuole, contribuirà, ma insomma non attribuiamo a loro questa diretta responsabilità. Ci sono altre questioni oggi che riprendono i temi di ieri sul PD che vuole riformarsi, sulla lettera di Calenda al foglio e sulla lettera di Ruggeri di due giorni fa, giovane parlamentare di Forza Italia che chiede a Berlusconi di rinnovarsi. Parliamo con Calenda e rispondiamogli non tanto con il foglio di oggi che dice quante persone sono d'accordo con lui, i vinniti, non so quante persone sono sull'idea di Calenda, ma sul fatto che la risposta vera è in un colonnino che ha fatto oggi Dario Di Vico, più che una risposta a sfottò che ha fatto Daniela Ranieri sul fatto che dice il libretto rosso del Pariolino, prendendo in giro l'idea che questo è de sinistra dei Parioli, dell'ultima spiaggia, questa è l'idea un po' semplificata di chi è Calenda, ma Ritaro Lovacchini dice che Ruggeri ha ragione, poi ne parleremo di Ruggeri e Forza Italia, ma sostanzialmente la risposta gliela dà Di Vico perché? Perché Di Vico oggi sulla giornale, sulla Corriere della Sera, racconta dell'ultimo libro di Picchetti che mette insieme un serie di numeri, statistiche, come ha fatto con Il Capitale, libro pessimo per il quale sosteneva che Il Capitale rendeva di più del reddito, ma comunque sia, in questo libro cosa sostiene invece Picchetti? Che banalmente fino agli anni 50 le persone colte erano a destra e dai 50 un po' gli laureati, le persone più colte, le persone più ricche sono andate a sinistra, sia i soldi sia la politica si è spostata a sinistra, è sempre stata più identificata con l'élite, momento per il quale, aggiungo io, in un momento in cui si condannano l'élite, si condanna la sinistra. Vico Matteo dice quanti elettori rappresenta il PD oggi? Non lo so, ancora non lo so, comunque alle elezioni mi sembra che il 14-15% l'ha preso, qualche comune l'ha preso, insomma non è esattamente un partito inesistente. Secondo elemento invece di dibattito è quello di Forza Italia e qui invece la discussione va sul giornale di Berlusconi, cioè il giornale di cui faccio il vice direttore e lì si compone di due notizie, la prima che sarà sicuramente come possiamo dire trapelata da Arcore o da dove sta oggi da Scenò insieme alla Boschi, già questa è un'immagine che forse un po' l'elettore del contemporaneo non ama pensare che Boschi e Berlusconi siano nella stessa clinica della salute, posto che non c'è nulla di male nel farlo, anche io qua magari in questo albergo chissà con quante persone sono, ma non è questo il punto, quello che è il punto è che sul giornale filtra l'irritazione del Cavaliere sulla dichiarazione prima di Ruggeri, poi di Martino, poi di Urbani, non so di chi altro. Io dubito, dubito, abbiate pazienza, guardatevi bene, che Martino, non so di Ruggeri, che il Cavaliere Berlusconi possa essere irritato nell'intervista fatta da Martino e questo io lo dico ad alta voce, perché Martino non solo è stato uno delle prime teste di Forza Italia, non solo non ha mai litigato col Cavaliere, cioè ha litigato tante volte ma è stato in Forza Italia, ma per ultimo, come mi ha raccontato recentemente Martino, ha deciso di non candidarsi per fare spazio a giovani. Sono arrivati i giovani? Beh, risponde a Ruggeri, questa giovane, non so se una parlamentare o giovane, devo dire, l'affascina, questa affascina che, a parte il fatto che le prime 40-50 righe, chi gliela scritte, bisogna spiegare, non ci rispiegate la questione del colpo di Stato, del fatto che Berlusconi nel 2007 è stato cacciato, nel 2011 dei mercati, perché o lo sappiamo o ci avete già rotto le scatole su questa cosa. Anche il Cavaliere, quando lo accontava primo, secondo, terzo, quarto colpo di Stato, se lo fa il Cavaliere, il signore di 90 anni che ha subito, 80 anni che ha subito il colpo di Stato, ci sta, ma se me lo devo leggere pure le prime 30 righe di una lettera di una parlamentare di Forza Italia, avvalorate quello che sostiene Ruggeri, e cioè che non c'è gente nuova, non c'è pensiero nuovo, non c'è idea nuova, non è un fatto di età. Se senti Martino, capisci un'idea nuova, capisci una battuta nuova, capisci una vitalità nuova, nonostante abbia 80 anni, se leggi la lettera di oggi in cui c'è scritto che Berlusconi è stato fatto fuori da un colpo di Stato nelle prime 40 righe, allora sapete che cosa leggi? Leggi il motivo per il quale gli italiani dicono, ma sapete che c'è di nuovo, ma perché devo votare Forza Italia? Per la lettera della fascina o voto purtroppo da altre parti, dice l'elettore di Forza Italia, tipico che per esempio ascolta la zuppa da 4 anni? Allora, se fossero un attimo connessi, capireste che tutti gli elettori di Forza Italia forse immaginano che ci sia stato quel colpo di Stato, quel coup de théâtre per il quale Berlusconi nel 2011 viene mollato, qualcuno pensa che sia anche stata colpa di qualcuno all'interno di Forza Italia, per esempio di Tremonti, qualcuno pensa i più sofisticati, ma oggi se ne fottono, il mondo va avanti, non è possibile che un parlamentare di Forza Italia ancora ci parli di questa roba qua, è finita, c'è Salvini, c'è Di Maio, è cambiato il mondo, c'è Trump, c'è Putin, che c'era anche allora e col quale Berlusconi fece fare pace agli americani. Vabbè, l'avete capito come la pensa su questa cosa? Mi sembra sia in un campo sia nell'altro una debacle totale e una, come possiamo dire, mancanza di prospettiva totale per i due grandi movimenti politici del passato e per i suoi fan difficilmente è accettabile che siano soltanto del passato. Molto interessante invece la storia americana per il giudice Kennedy che molla e il titolo del Corriere della Sera è il Svolta a destra della Corte Suprema. Allora, Svolta a destra della Corte Suprema, basta vedere quel bellissimo film che si chiama The Post di Spielberg, la Corte Suprema è fatta da nove giudici nominati a vita, nel caso di The Post addirittura ce ne sono sei contro tre che votano a favore della possibilità di Washington Post e degli altri di poter pubblicare i Pentagon Paper sulla guerra del Vietnam. Allora, cosa è la svolta a destra? Già eravamo con cinque giudici eletti e nominati, scusatemi, da presidenti repubblicani e quattro democratici. Cambierà molto poco, verrà nominato un giudice con tutta probabilità, eletto da Trump e quindi repubblicano, comunque nell'idea Maverick di Trump chissà che prenderà. Tra l'altro vi segnalo che il giudice che ha 81 anni e che è stato 31 anni nella Corte Suprema, quindi nominato a 50 anni, giovanissimo, è stato nominato da Reagan, che all'epoca veniva considerato una merda, il peggior conservatore, un fascista, il peggiore, no? Quindi quel giudice lì, che pure ha fatto molto per i diritti degli omosessuali, per la libertà, per il secondo emendamento, anche quello delle armi, bene, era un giudice che soltanto 30 anni fa era considerato iper di destra, pensate un po' oggi, quindi la svolta a destra oggi, tipica riflesso che noi abbiamo nel commentare le cose che arrivano da Trump, mi sembra soltanto ridicola, anche se è affascinante, io sono sempre molto affascinato, leggetevi appunto, vedetevi il film The Post, se non vi va di leggervi, non so, libri un po' più interessanti, questo sistema incredibile americano per cui in effetti i check and balance esistono e poi a Trump si oppone una corte di giustizia e una corte suprema e tutta una serie di sistemi di contrappesi che fanno di questo paese una democrazia, non so se sia adesso il sistema del futuro, l'Economist di due settimane fa di questo si interrogava, sapete quante, era un pezzo bellissimo dell'Economist e su questo chiudo, sapete quanti paesi avevano un regime, un sistema democratico nel 1941? Una dozzina, una dozzina, la democrazia è recentissima, nel 1941 ci sono solo una dozzina di paesi democratici, nel 2010, nel 2012 soltanto in otto paesi non si erano state fatte invece elezioni democratice, come cambiano i tempi possono cambiare di nuovo, ma in America c'è un Kennedy che molla la Corte Suprema per un nuovo giudice che arriverà, ci sono tante altre cose oggi, sono a New York, devo partire a lavorare, sono già alle sette e mezza qui, in ritardo con voi e con i miei appuntamenti, condividete se vi piace, ciao!